ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica riders of the lost film questa volta andiamo indietro nel tempo di quasi 60 anni ovvero andiamo al 1975 quando uscì i tre giorni del condo three days of the condor film diretto da sydney pollock con protagonista un grandissimo robert redford ne parlo con grande piacere con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo sono 48 perché stavo pensando ricordavo un po più giovane però bene adesso con i miei non è 60 ma quasi 50 non i miei anni ma i film perché 75 quindi sì tra due anni festeggia il suo cinquantesimo anniversario è però un film che dimostra di essere di una freschezza incredibile di un'attualità anche sì anche perché no infatti poi mi ricordavo che era un film che era arrivato praticamente al termine della guerra del vietnam appena dopo lo scandalo watergate quindi insomma eravamo negli anni settanta siamo lì quindi ha una ha un'importanza storica veramente altissimo questo film ed è un film mi dicevi che ancora si fa vedere ancora molto molto bene sì 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 assolutamente è un caposaldo anche del del genere thriller spionaggio ma di di cosa parla appunto siamo negli anni settanta e il film si apre con la notizia notizia che in un dipartimento della della cia un dipartimento piccolino dove fanno un lavoro anche apparentemente noioso ovvero leggere libri riviste appuntarsi informazioni sull'uso delle delle lingue è stato ucciso sono stati uccisi tutti i membri ma l'unico a essersi salvato è il il ovviamente il protagonista ovvero robert rareford che interpreta joseph joseph tarner soprannominato condor perché per una casualità lui era andato a prendere la colazione quindi in quel momento non 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 era in ufficio joseph tarner appunto appena prende la notizia chiama in ufficio per sapere cosa è successo e si organizza subito una sorta di missione per recuperare joseph tarner per farlo tornare alla alla base è il caso di dire ma questo tentativo di farlo tornare a casa invece darà il via a una serie di tentativi di uccidere anche lui stesso il quale scapperà appunto siamo a new york nel quartiere di manhattan all'inizio del film poi ci spostiamo anche negli altri quartieri e joseph tarner dovrà salvarsi dovrà trovare anzitutto il motivo perché anche lui vuole vuole essere ucciso e nello scappare troverà aiuto a katie hale che è interpretata da faye danaway la quale all'inizio ha ovviamente tutti i dubbi ma quando capisce che joseph tarner è onesto e sta dicendo la verità deciderà di aiutarlo da qui parte una caccia al topo e al colpevole perché joseph tarner ha capito che qualcosa che lui stesso ha fatto gli sta creando questi problemi sì è tratto da un romanzo romanzo omonimo anzi i giorni del condor erano sei in realtà nel romanzo di james grady e in realtà poi ci sono un po di differenze beh a parte anche il nome del protagonista nel romanzo è diverso non è lui l'autore di un manoscritto che poi insomma scoprirete vedendo il film quale importanza abbia insomma ci sono un po di variazione rispetto al romanzo che nelle mani di pollack sono diventate un film che all'epoca è veramente uno straordinario successo per tanti motivi intanto vabbè è un film di spionaggio come ce ne sono veramente pochi uno insomma dei film di spionaggio del cinema degli anni 70 più importanti e poi per la sua importanza storica come dicevamo perché è forse uno dei film che arriva nel momento forse più basso del rapporto cittadino stato naturalmente statunitese perché come dicevamo il contesto storico è quello della post guerra vietnam scandalo watergate e il quindi il ruolo dei servizi segreti è un ruolo è quantomeno di cui diffidare e la figura è quantomeno ambiguo e la figura di tarner rappresenta un po la rivincita del cittadino onesto che contro tutti e tutto deve cercare di difendere se stesso non solo i propri principi ma anche la propria pelle assolutamente è un film tra l'altro visto a giorno d'oggi con un grande dinamismo un film molto frenetico con una regia bellissima che consolida anche un rapporto di professionale ed amicizia tra lo stesso Sidney Pollack e Robert Redford i quali qualche anno dopo fondarono la Sundance Institute che era fondamentalmente una un'associazione no profit per far crescere cinefili registi addetti ai lavori e da lì è nato anche il Sundance Festival sempre nello stesso periodo a metà anzi fine anni 80 e loro due sono i pilastri di quel festival cosa possiamo dire del film che in realtà allora di curiosità non ce ne sono tantissime però è un film che a livello di premi ha vinto veramente poco perché ha vinto uno speciale david di donatello è stato solo menzionato con una nomination agli oscar di quell'anno però è un film proprio di genere e come detto tu giustamente simbolo di un periodo storico americano che come anche da un punto di vista narrativa è stato addirittura ripreso recentemente da un c'è visto che abbiamo fatto la recensione di Antoine un cinecomics della marvel che è captain america winter soldier che ha una struttura direi decisamente simile e uno dei protagonisti è proprio robert rathford in una parte particolare ecco sì quello è vero il tra l'altro a fianco il primo è citato giustamente faye danaway che all'epoca era una delle attrici più quotate del cinema americano ricordiamo intanto premio oscar aveva interpretato china town di polanski quinto potere di lumet insomma due dei grandissimi successi sempre degli anni settanta e questo fu un grandissimo successo il botteghino è perché in prisione del condor guadagnò tantissimo nel cast ricordiamolo perché c'è c'è un altro premio oscar che il signor cliff robertson che lo ricordiamo per essere stato lo zio ben della prima trilogia dello spider man e poi un altro grandissimo attore svedese qui nella parte di un super cattivo che era max von seidel che nel ruolo dell'alsaziano jubert è un altro di quei volti che nel cinema degli anni settanta si ritrova e non soltanto nel cinema mainstreaming ma soprattutto in quello d'autore di recentissimo l'avamo visto max von si do vado di memoria in un capitolo di star wars faccio una piccola una una piccola parte ecco questo è quello che volevamo dirvi merito al nuovo film che i riders hanno scelto che i tre giorni del condoro un film che trovate in streaming un film che sicuramente se non l'avete mai visto vedetelo perché vi prenderà dall'inizio alla fine e soprattutto la cosa bella è che il finale è uno dei finali più aperti più belli che mi siano personalmente mi siamo capitato di di vedere dove da lì ti puoi fare mille domande non capirai mai chi avrà vinto per questo appuntamento è tutto come sempre grazie per paolo ciao a tutti alla prossima